Il primo dicembre 2021 l'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha autorizzato la somministrazione del vaccino contro il Covid anche ai bambini tra i 5 e gli 11 anni con formulazione specifica. Una campagna vaccinale che però non è mai decollata a pieni giri e messa in discussione da molti genitori, nonostante garantisca un'efficacia significativa nei confronti dei bambini. Anche in una fase come questa caratterizzata dall'elevata circolazione della variante Omicron in grado di provocare nuovi contagi e reinfezioni in persone già vaccinate. La doppia somministrazione del farmaco sviluppato da Pfizer infatti in grado di ridurre in maniera rilevante i casi gravi di malattia nella popolazione pediatrica 5 e 11 e di conseguenza il numero dei ricoveri. Un dato questo che emerge da uno studio appena pubblicato su una nota rivista scientifica internazionale che certifica l'importanza della vaccinazione anche tra i più piccoli. Nella nostra regione il trend però rispecchia quello nazionale e cioè un solo bambino su tre ha completato il ciclo vaccinale. A rimarcare l'importanza del vaccino sulla fascia pediatrica ma anche il perché di questa situazione di stallo il dottor Paolo Calafiore che oggi a Giulia Nova ha ricevuto il primo premio Leo Giannattasio come presidente dell'Associazione Pediatrica per l'Emergenza Onlus. Sicuramente è un problema molto anche psicologico all'inizio c'è stata eravamo in una situazione di criticità e sull'onda di questa emotività probabilmente ci sono stati molti vaccini. Oggi anche se sbagliando probabilmente si considera l'estate un momento di pausa e molti genitori dicono che questo vaccino magari lo faranno a settembre. Secondo me scientificamente non è giusto, da parte mia dopo 42 anni di pediatria cerco di fare la mia parte e credo che i medici debbano fare una corretta e giusta informazione, soprattutto i pediatri nei confronti delle famiglie spiegando realmente che cosa è questa evolutività del virus. Sicuramente avremo un aumento a settembre, una ripresa di questi vaccini e l'importante è uscire da questo tunnel.